Torna a Pescara domenica 15 maggio l'appuntamento con la terza edizione dell'Alf Marathon corsa sulla distanza dei 21 chilometri organizzata dalla Wisp, Abruzzo e Molise in collaborazione con i runners Pescara. Sicuramente la qualità del percorso, la qualità dell'organizzazione, voglio dire con un po' di presunzione anche l'attrazione che dà la città di Pescara, credo che insomma abbiano dato la spinta perché questa piccola maratona, maratonina, diventi un appuntamento importante e tradizionale nel panorama nazionale. Quindi grande soddisfazione da parte della nostra amministrazione e ci auguriamo che sia una bella giornata, ci auguriamo grande collaborazione da parte dei cittadini di Pescara che oramai però sono abituati a questo tipo di manifestazioni per cui insomma sicuramente accetteranno questo evento e parteciperanno anche in maniera numerosa a sostenere gli atleti che faranno la gara. Prevista anche una gara non competitiva sulla distanza di 10 chilometri, centinaia gli atleti che arriveranno da fuori Abruzzo. Siamo riusciti a fare il sold out della manifestazione, questo la dice lunga. Poi per quanto riguarda le novità è che quest'anno non passiamo dietro l'Auromo, passiamo davanti all'Auromo. Ci sono i pattinatori che partono prima, 50 pattinatori e poi abbiamo 20 top runner che vengono da fuori. Quest'anno abbiamo avuto un'affluenza da fuori regione, quasi 6-700 iscritti e sono tutte persone che fanno la 21, quindi ci hanno già messi nella lista delle gare che vogliono fare, questo è importante. Tant'è vero che questa mattina molte persone ci hanno chiamato per potersi iscrivere, però le iscrizioni sono chiuse, ci hanno fatto i complimenti e hanno rimandato all'anno prossimo il fatto di venire a trovarci.